A Rochemoldi Bardonecchia si è conclusa nel migliore dei modi l'operazione di cattura di uno stambecco proveniente dal dipartimento francese delle Otalp, effettuata dagli agenti faunistico-ambientali del servizio tutela fauna e flora della città metropolitana di Torino. L'esemplare maschio denominato Dimanche era stato catturato e dotato di un radiocollare per la prima volta nel maggio del 2015, quando aveva 5 anni. Era stato catturato nella zona del Colle dell'Ottaré, che nel Briansonet segna il confine fra i comuni di Villardarenne e Monnetier-les-Bains. La cattura e il posizionamento del radiocollare a scopi scientifici era stata effettuata dal personale di vigilanza del Parc Nacional de Zecren nell'ambito del progetto di studi Alcotra-Lemed-Ibex, confidenziato dall'Unione Europea ed esteso dal Lago di Ginevra al Mediterraneo. Il progetto, a cui collaboro la città metropolitana di Torino, prevede una serie di catture per il posizionamento di collari e per l'effettuazione di prelievi genetico-sanitari su alcune centinaia di esemplari di stambecchi delle principali colonie presenti sul versante francese e su quello italiano delle Alpi Occidentali. La durata massima delle batterie dei radiocollare è di 3 o 4 anni. Era pertanto urgente la sostituzione della radio con un analogo apparecchio con le batterie cariche. La cattura avviene con la telenarcosi utilizzando un fucile lancia-siringhe. Gli agenti della città metropolitana di Torino hanno operato su richiesta del professor Luca Rossi della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Torino, che ha gestito la parte sanitaria della cattura e la successiva liberazione. Lo studio degli spostamenti di Dimanche ha evidenziato un suo utilizzo del territorio anomalo rispetto alla consuetudine della specie, con un'elevata erraticità fra i territori alpini italiano e francese.